Capitolo decimo La prima domenica d'agosto al Paradiso facevano l'inventario, che doveva essere finito la sera stessa. Tutti gli impiegati erano al loro posto come in un giorno di lavoro e l'inventario era cominciato la mattina presto, a porti chiuse, nei magazzini vuoti di clienti. Denise non era scesa alle otto con le compagne. Da cinque giorni era chiuse in camera sua per una storta presa per salire al laboratorio. Stava meglio, ma Madame Orely non era severa con lei ed essa non si affrettava, mettendosi gli stivaletti con pena, risoluta non di meno a scendere nel reparto. Le stanze delle ragazze occupavano ora tutto il quinto piano dei fabbricati nuovi, lungo Rue Monsigny. Erano sessanta da una parte e dall'altra di un corridoio e un po' migliori di prima per quanto col solito lettino, l'armadio e la toilette. La vita intima delle commesse ci acquistava in pulizia ed eleganza, una tendenza ai saponi cari e la biancheria delicata. Una naturale scalata verso la borghesia, via via che la loro condizione migliorava, benché ancora si sentissero volare parolacce e sbattere le porti in questa atmosfera da camera immobiliate che le travolgeva dalla mattina alla sera. Ma Denise, come aiuto della direttrice, aveva una delle più belle stanze, con due finestre sulla strada e, ora ricca, se l'era abbellita da sé con un piumino rosso coperto di trina, un tappetino davanti all'armadio e due vasi di cristallo celeste sulla toilette con delle rose mezza passite. Quando si fu messa agli stivaletti, tentò di camminare per la stanza, ma si dovette appoggiare i mobili perché zoppicava ancora. Sperava, camminando, di vincere il male. Aveva però fatto bene a non accettare l'invito di andare quella sera a cena dello zio Badou e a pregare la zia di portare a spasso Pepe che aveva ripreso dalla Grà. Jeanne, che il giorno avanti era venuto a far le visita, doveva anche lui cenare dallo zio. Piano piano si sforzava di camminare, con l'intenzione di andare a letto presto per riposare la gamba, quando la sorvegliante, la lettera con aria di mistero. Chiusa la porta, Denise, meravigliata del sorriso furbo di quella donna, aprì la lettera. Diventò pallida pallida e si lasciò andare su di una seggiola. Era una lettera di Moret, nella quale egli, dicendosi contentissimo di saperla guarita, la pregava di scendere la sera per cenare con lui, giacché non poteva uscire. Il tono di quel biglietto, familiare e nello stesso tempo paterno, non aveva nulla di offensivo, ma era impossibile fraintenderlo. Tutti al paradiso sapevano ciò che quegli inviti volessero dire e ne avevano ormai fatto una leggenda. Anche Claire aveva pranzato col padrone, anche tante altre, tutte quelle che gli piacevano. Alla fine della cena, dicevano quei burloni dei commessi, veniva il dolce. E le gote pallide della ragazza si fecero a poco di fiamma. Allora la lettera le scivolò dalle ginocchia e Denise, col cuore che batteva forte, rimase con gli occhi fissi su una delle finestre. Se l'era dovuto confessare, in quella camera stessa, nelle ore di insonnia. Se tremava ancora quando lui passava, lo sapeva che non era per paura. E quel malessere di prima? Il suo antico timore non poteva essere che il fremito inconscio dell'amore, il turbamento di un affetto nascente nella sua selvaggia anima di fanciulla. Non ragionava più. Sentiva soltanto che lei l'aveva sempre amato fin dal momento che aveva dovuto fremere e balbettare davanti a lui. L'amava quando ne aveva paura, come d'un padrone spietato. L'amava quando in cuor suo pensava confusamente a Houten, cedendo senza accorgersene a un bisogno d'amore. Se anche si fosse data ad un altro, non avrebbe amato altri che quell'uomo il cui sguardo l'atterriva. E tutto il passato le ritornava davanti, svolgendosi nella luce viva della finestra. La severità dei primi mesi, quella passeggiata così dolce sotto le ombre nere delle tuieri. Per ultimo, i desideri con i quali lui la accarezzava dal giorno in cui era tornata. La lettera scivolò per terra e Denise seguitò a guardare la finestra che, colpita in pieno dal sole, la cecava. A un tratto sentì bussare e si affrettò a raccogliere la lettera e ficcarsela in tasca. Era Pauline che, con un pretesto qualsiasi, era venuta via dal reparto per chiacchierare un po' con lei. «Come vi sentite? Non vi si vede più!» Ma, essendo proibito salire nelle stanze e soprattutto chiudervisi in due, Denise la portò in fondo al corridoio dove c'era il salotto, regalo di murea alle ragazze che ci potevano passare la serata aspettando le undici. La stanza, dipinta di bianco e oro, volgare come un salotto d'albergo, era ammobiliata con un pianoforte, un tavolino in mezzo, delle poltrone e dei canapè coperti di fodere bianche. Del resto, dopo qualche serata passata tra di loro, nella prima citazione della novità, le ragazze non vi si incontravano più, senza arrivare subito a parole sgradevoli. Era un'educazione tutta da fare. La piccola città falansteriana mancava di concordia. E nel frattempo, la sera là non c'era guerra solo per la vice della biancheria, Miss Powell, che pestava seccamente Chopin al piano, il cui talento invidiato finiva per mettere in fuga le altre. «Posso camminare ora», disse Denise. «Stavo per venire giù. Brava! Brava davvero! Questo si chiama pigliarsela a cuore! Io, per me, starei qui in tanta pace se solo avessi una scusa!» Si erano messe a sedere su un canapè. Pauline, da quando la sua amica era bicedirettrice all'abbigliamento, non la trattava più come prima. Nella sua familiarità c'era ora un po' di rispetto. E un po' di sorpresa, anche, vedendo quella povera figlia procedere per la via della fortuna. Ma Denise le voleva lo stesso bene, e si confidava con lei sola tra le duecento donne che erano impiegate nel paradiso. «Che ve' accaduto?», chiese vivamente Pauline, quando si accorse del suo turbamento. «Nulla, nulla», rispose cercando di sorridere. «Sì, sì, avete qualche cosa. Dunque non vi fidate di me, se non mi dite più i dispiaceri che avete». Allora Denise lasciò sfogare la commozione che le gonfiava il petto e che non lo riusciva di frenare. Diede la lettera all'amica e balbettò «Ma scritto! Guardate!». Tra di loro non avevano parlato mai apertamente di Muray, ma quel silenzio stesso era un confessare i loro segreti pensieri. Pauline sapeva tutto. Dopo aver letto la lettera di Muray, si strinse addosso a Denise, l'abbracciò e le sussurrò dolcemente. «Piccina mia, se volete che vi dica la verità, credevo che foste già d'accordo». «Non prendetevela in questa maniera. Tutti nel magazzino lo credono, come lo credevo io. Che volete? Vi ha nominata così, di colpo, e poi v'è sempre intorno. Come si fa a non crederci?». La baciò sui capelli e poi le domandò. «Stasera ci andate, non è vero?». Denise la guardò senza rispondere. E a un tratto si mise a singhiozzare appoggiando il capo sulla spalla dell'amica. Questa restò meravigliata. «Via, via, datevi pace! Non c'è nessuna ragione per agitarsi così! No, no, lasciatemi in pace!» rispose fra i singulti Denise. «Se sentiste che dispiacere! Ma da che ho avuto questa lettera non respiro più! Lasciatemi piangere!» «Mi fa bene!» Commossa anche lei, per quanto non ci capisse nulla, Pauline fece tutto per consolarla. Prima di tutto, con Claire lui non ci andava mica più. Dicevano che aveva una signora fuori, ma sta a vedere se è vero. E poi di uno come Murray non conveniva essere gerosa. Era proprio ricco. E poi, in fin dei conti, non era lui il padrone. Denise stava a sentire, e se avesse dubitato ancora del proprio amore, se ne sarebbe accertata sentendo di che spasimo le traffisse il cuore il nome di Claire e l'allusione alla desforge che, con disprezzo da gran signora, la portava su e giù per i magazzini. «Ma ci andreste voi?» chiese alla fine. Pauline, senza nemmeno stare a pensarci, esclamò «Lo credo io! E chi farebbe altrimenti?» Poi ci riflette e aggiunse «Ora no, perché ora sto per pigliare Bouget, e non voglio far del male, io». Bouget, che da poco era entrato nel paradiso, lasciando il suo magazzino, un bon marché, stava veramente per sposarla ai primi di agosto. Bordoncle non li poteva soffrire i matrimoni, ma ormai avevano avuto il permesso, e speravano anzi in una quindicina di giorni di permesso, per godersi la luna di miele. «Lo vedete?» disse Denise. «Quando si vuol bene davvero, si sposa». «Bouget vi sposa». Pauline scoppiò a ridere e abbracciò di nuovo l'amica. «Ma cara mia, non è mica lo stesso. Bouget mi sposa perché è Bouget, e da pari a pari, si sa». «Ma monsieur Mouret?» «Che monsieur Mouret se la può sposare una delle ragazze del suo magazzino?» rise anche più forte e dette un altro bacio sui capelli a Denise. Il suo viso grosso, con gli occhi teneri, si atteggiava a materna commiserazione. Poi si alzò, aprì il pianoforte e suonò con un dito solo l'Heroa d'Agobert. Certamente per buttare un po' di letizia in tanta malinconia delle cose. Nella nudità del salotto, di cui le fodere bianche pareva facessero maggiore il vuoto, salivano i rumori della vita, il grido lontano d'una donna che vendeva piselli. Denise s'era mezzo sdraiata sul canapè, appoggiando la testa al legno, scossa da un nuovo impeto di singulti che soffocava nel fazzoletto. «Da capo», disse Polin voltandosi, «non avete affatto giudizio. Perché mi avete portata qui? Era meglio restare in camera vostra.» Le si inginocchiò davanti e ricominciò a farla ragionare. Quante altre avrebbero voluto essere al suo posto? E poi, se non voleva, bastava che dicesse di no, senza bisogno di piangere tanto. Ma ci doveva pensare sul serio prima di rischiare il suo posto con un rifiuto che non si capiva, una volta che lei non aveva altri impegni. Di che mai credeva che si trattasse. E la predica finiva con degli scherzi sussurrati furbescamente quando si sentirono dei passi nel corridoio. Polin si era alzata per dare un'occhiata fuori della porta. «Zitta! Madame Orelie, scappo via subito! E voi asciugatevi gli occhi! Non c'è bisogno che lo sappiano tutti!» Quando Denise fu sola, si alzò e si sforzò di trattenere le lacrime. Con le mani che ancora le tremavano per la paura d'essere trovata lì a non far nulla, richiuse il pianoforte che Polin aveva lasciato aperto. Ma sentì Madame Orelie picchiare alla porta della camera e si affrettò fuori del salotto. «Come? Vi siete alzata?» esclamò la direttrice. «È un'imprudenza bella e buona, piccina mia! Venivo appunto a sentire come stavate e dirvi che giù non abbiamo affatto bisogno di voi!» Denise le assicurò che stava molto meglio e che distrarsi le avrebbe anzi fatto bene. «Non mi stancherò mica! Mi metterete a sedere e scriverò gli inventari!» Scesero. Madame Orelie, tutta premurosa, l'obbligava ad appoggiarsi sulla sua spalla. Se era certamente accorta degli occhi rossi della ragazza perché le dava delle sbirciate indagatrici. Doveva sapere ogni cosa. Quella di Denise era una vittoria del tutto insperata. Aveva finalmente fatto suo tutto il reparto. Dopo essersi per quasi dieci mesi dibattuta fra i tormenti delle principianti senza riuscire a stancare il maligno animo delle compagne, era giunta in poche settimane a dominarle e a vederseli intorno obbedienti e rispettose. L'improvvisa benevolenza di Madame Orelie l'aveva grandemente aiutata nella difficile impresa di conciliarsi i cuori. Si andava sussurrando che la direttrice era la mezzana di Mouret e che, se aveva preso con tanto favore la ragazza sotto la sua protezione, voleva dire che lei era stata particolarmente raccomandata. Ma anche Denise aveva fatto di tutto per disarmare le nemiche. Il che era tantomeno facile, dovendosi insieme, far perdonare la sua nomina a vice direttrice. Le ragazze dicevano che era un'ingiustizia e l'accusavano di essersela guadagnata a un pranzo col padrone. Davano perfino dei particolari irriferibili. Ma avevano un bel ribellarsi. Quel titolo di vice le faceva stare a dovere e Denise prendeva un'autorità che meravigliava e faceva piegare anche le più ostili. Ben presto ebbe tra le ultime venute delle adulatrici. Marguerite venne dalla sua. Claire soltanto seguitò a farla cattiva, gettandola ogni tanto la vecchia ingiuria di sciattona, che ormai non faceva più ridere nessuno. Nel breve capriccio di Mouret si era approfittata per non far più nulla, in un ozio ciarliero e vanitoso, quando lui non ne volle più sapere. Non si lamentò nemmeno, non potendo sentire la gelosia in quella vita che conduceva, e fu contenta e paga del guadagno di essere tollerata senza far nulla. Ma, secondo lei, Denise le aveva rubato il posto della Frederic. Non l'avrebbe accettato, perché c'era troppo da fare, ma non poteva tollerare in santa pace quella mancanza di riguardo avendo gli stessi diritti dell'altra, anzi, dei diritti maggiori per via dell'anzianità. «Guarda, ora che ha partorito, la portano a spasso», mormorò quando vide che Madame Aurélie sorreggeva Denise. Marguerite si strinse sulle spalle dicendo «Questa, cara mia, non sa di nulla». Suonarono le nove. Fuori un cielo d'un azzurro infocato scaldava le vie. Delle carrozze correvano verso le stazioni. Tutta la gente vestita a festa si avviava in lunghe file verso la campagna. Nel magazzino inondato dal sole attraverso i finestroni spalancati, gli impiegati avevano cominciato allora a fare l'inventario. Avevano tolto le maniglie dalle porte e la gente si fermava sul marciapiede, meravigliata di veder chiuso quando invece dentro c'era un grande affare. Da cima a fondo, nelle gallerie, nelle corti, dal primo all'ultimo piano, era un tramestio di commessi, braccia per aria, pacchi che volavano sulle teste, in mezzo a una tempesta di gridi e di numeri detti e ripetuti, con una confusione che saliva e turbinava in un frastuono assordante. Ogni reparto lavorava per conto suo, senza darsi pensiero del reparto accanto. Erano proprio sul principio. Per terra non c'erano che poche merci. Se volevano finire in serata, bisognava fare in fretta. «Perché siete scesa?» domandò cortesemente, Margherita, a Denise. «Vi farete del male, e qui c'è quanto personale si vuole!» «Glielo ho detto anch'io!» soggiunse Madame Orelie. «Ma ha voluto fare a modo suo!» Tutte le ragazze si affollarono intorno a Denise, interrompendo il lavoro, per allegrarsi con lei e ascoltare il racconto della sua storia, interrompendolo via via con esclamazioni. Finalmente, Madame Orelie la mise a sedere su una seggiola, davanti a un banco. Doveva contentarsi di segnare la roba che a mano a mano veniva calata dagli scaffali. La domenica dell'inventario, quanti sapevano tenere una penna in mano, erano visti e presi. Gli ispettori, i cassieri, gli impiegati dell'amministrazione, perfino i garzoni. Anzi, i reparti si disputavano quell'aiuto momentaneo per far più presto. Così Denise si sedette tra Lom e Joseph, chini tutte e due su grandi fogli di carta. «Cinque mantelli, stoffa, guarniti, pelliccia, terza grandezza, 240!» gridava Marguerite. «Quattro idem, prima grandezza, 220!» Il lavoro ricominciò. Dietro Marguerite, tre ragazze votavano gli armadi, mettevano in ordine la roba e gliela davano a pacchi. E quando lei aveva detto che cos'erano e il prezzo, li buttava su delle tavole dove a poco a poco si alzavano mucchi enormi. L'homme scriveva e Joseph faceva un'altra lista per riscontro. Nel frattempo, Madame Orelie in persona, aiutata da tre ragazze, contava da sé i vestiti di seta che Denise appuntava scrivendo su un foglio. Claire doveva stare attenta ai mucchi della roba e ordinarli in modo che tenessero il minor posto possibile lungo le tavole. Ma ci stava poco attenta e dei mucchi stavano già per cascare. «Dite un po', chiese a una ragazzetta entrata quell'inverno. Vi aumentano qualcosa, voi? La vice la metteranno a duemila franchi e così con gli altri guadagni si beccherà quasi settemila franchi l'anno». L'altra, senza smettere di passare dei mantelli, rispose che se non le davano ottocento franchi se ne voleva andare. Gli aumenti si facevano sempre il giorno dopo l'inventario e al tempo stesso, sapendosi ormai quanti affari erano stati fatti nel corso dell'anno, i capi reparto avevano un tanto sull'aumento della somma paragonata con quella dell'anno scorso. Perciò, per quanto grande fosse la confusione e il da fare, le chiacchiere seguitavano fervidamente. Tra un pacchetto e l'altro non si discorreva che del denaro. Correva voce che a Madame Morelli sarebbero toccati più di 25.000 franchi e ognuno però immaginava quanto vi ricamassero sopra le ragazze. «Marguerite, la più brava a vendere dopo Denise, sarà guadagnata 4.500 franchi, 1.500 di stipendio e quasi 3.000 di percentuale. Claire non arrivava, tutto compreso, a 2.500». «Che mi importa a me dei loro aumenti?» ripigliava quest'ultima rivolgendosi di nuovo alla ragazza. «Se papà fosse morto, lo vedrebbero se ci resterai in un minuto. Ma quel che non mi va giù sono quei 7.000 franchi che si pappa a quello strofinaccio là. E voi?» Madame Morelli interruppe stizzita la conversazione, voltandosi con la sua aria da imperatrice. «Zitta un po'! Non si capisce più nulla!» Poi si rimise a sedere. «Sette mantiglie, siciliana, prima grandezza, 130, tre pellicce, seconda grandezza, 150». «Vado troppo veloce?» «No», rispose Denise. Allora Claire dovette occuparsi un momento dei vestiti, che si ammucchiavano sulle tavole. Con due spinte, ebbe fatto un po' di largo. Ma li lasciò nuovamente andare come volevano, per rispondere ad uno che la cercava. Era Mignot, che aveva piantato il suo reparto per chiederle in prestito 20 franchi. Gliene doveva dare già 30, che lei gli aveva prestati, il giorno dopo le corse, perché aveva perduto tutto il guadagno della settimana su un cavallo. Questa volta si era belle mangiato il guadagno intascato il giorno avanti, e non gli restavano 50 centesimi per festeggiare la domenica. Claire non aveva che 10 franchi, e glieli prestò garbattamente. Si misero quindi a discorrere, e parlarono d'una cenetta in sei che avevano fatto in una trattoria di Bougival, dove le donne avevano pagato la parte propria, così erano più contenti tutti. Ma Mignot aveva bisogno di altri 10 franchi, e andò a parlare ad un orecchio all'homme. Questi, frastornato dal suo lavoro, parve assai turbato. Con tutto ciò non osò rifiutare, e cercava il denaro nel suo portamonete, quando Madame Aurelie, stupita di non sentir più la voce di Marguerite, che aveva dovuto smettere anche lei, vide Mignot, e capì subito di che si trattava. Non c'era davvero bisogno che le venisse a distrarre le ragazze, e lo mandò via, come un cane. La verità era che aveva una gran paura di quel giovanotto amico intimo del suo Albert, il complice delle brutte storie che lei temeva andassero un giorno o l'altro a finir male. Per questo, quando Mignot ebbe i 10 franchi e scappò, non poté trattenersi dal dire al marito, come si fa a lasciarsi imbrogliare così? Ma, amor mio, non potevo mica dirgli di no. Lei alzò le spalle e gli chiuse la bocca. Poi, vedendo che le ragazze sotto sotto godevano di quel battibecco, riprese severamente, via, Mademoiselle Marguerite, non ci addormentiamo, se no non se ne esce più. 28 paltoncini, cashmere doppio, quarta grandezza, 18,50. Gridò Marguerite con la voce cadenzata. L'homme ricominciò a scrivere a testa bassa. A poco a poco il suo stipendio era salito a 9.000 franchi ed era umile umile davanti alla moglie che portava in casa ogni anno il triplo. Per un po' lavorarono con Lena. I numeri volavano, i pacchi piovevano fitti fitti sulle tavole. Ma Claire aveva inventato un'altra distrazione. Ed era di punzecchiare Joseph, attribuendogli un amore furibondo per una signorina impiegata ai campioni. Costei, che non aveva meno di 28 anni, magra e pallida, era protetta dalla desforge, che l'aveva fatta ad ogni costo prendere d'amore, raccontandogli una storia commovente. Era orfana, l'ultima dei fontenai, famiglia di antica nobiltà del Poitou. Ed era capitata a Parigi con un padre ubriacone, rimanendo onesta per quanto disgraziatamente non fosse stata educata in modo da poter farla governante o la maestra di pianoforte. Muree, di solito, s'arrabbiava tutte le volte che gli raccomandavano delle signore decadute. Non c'era, diceva lui, gente più zuccona e antipatica di loro. E poi non si impara a stare al banco da un momento all'altro. Ci voleva un tirocinio, perché il mestiere era difficile e delicato. Con tutto ciò, prese la protetta della desforge, cacciandola nell'ufficio dei campioni come già, per non dire di no a degli amici, due contesse e una baronessa in quello degli avvisi e cataloghi dove non facevano che fasce e buste. Mademoiselle de Fontenayle guadagnava tre franchi al giorno, che le permettevano di tirare avanti in una stanzuccia di rude argentail. Nel vederla sempre seria, vestita poveramente, il cuore di Joseph, cuore dolce sotto la sua muta rigidità da soldato, s'era commosso. Non lo confessava, ma quando le ragazze dell'abbigliamento lo canzonavano, arrossiva. L'ufficio dei campioni era in una stanza vicina e loro lo vedevano gironzolare continuamente davanti alla porta. «Joseph si distrae un po' troppo», sussurrò Claire. «Il naso gli si volta verso il reparto della biancheria». La de Fontenayle aiutava a fare l'inventario dei corredi e, siccome il garzone gettava davvero ogni tanto delle occhiate verso quella parte, le ragazze si misero a ridere. Lui si turbò e si tuffò nei suoi fogli, mentre Marguerite, per soffocare lo scroscio di risa che le solletticava la gola, gridò più forte che mai. «Quattordici giacchette, panno inglese, seconda grandezza, quindici franchi!» A un tratto, a madame Aurelie, che stava per contare i mantelli, si velò la voce e, con una maestosa lentezza, disse visibilmente arrabbiata «Un po' più piano, signorina. Non siamo al mercato. E fate a chi fa peggio a divertirsi così con delle ragazzate, quando il nostro tempo è tanto prezioso». Nemmeno a farlo apposta, in quel momento, siccome Claire non controllava, i mucchi della tavola scivolarono uno dopo l'altro per terra. Il tappeto ne fu coperto. «Che vi dicevo io?» urlò la direttrice fuori di sé. «State attenta, mademoiselle Claire! Così non si può andare avanti!» Ma un fremito si propagò. Erano apparsi Muret e Bordoncre, che facevano il loro giro solito di spezione. Ricominciarono subito le voci e lo scricchiolio delle penne, mentre Claire si affrettava a raccattare i vestiti. Il padrone non interruppe il lavoro. Rimase per qualche minuto lì fermo, sorridendo, senza aprir bocca. Soltanto le sue labbra avevano un tremito febbrile, nonostante l'allegria che li si leggeva sul volto in quel trionfale giorno dell'inventario. Quando si accorse di Denise, mancò poco che gli sfuggisse un gesto di stupore. Dunque era scesa e i suoi occhi si incontrarono con quelli di madame Aurelì. Poi, dopo un istante di titubanza, se ne andò ed entrò nel reparto accanto. Denise, avvertita dal leggero bisbiglio, aveva alzato la testa e, dopo aver riconosciuto Muret, si era chinata di nuovo sui fogli, facendo finta di nulla. Da quando si era messa a scrivere meccanicamente in mezzo ai gridi regolari delle ragazze, si sentiva più tranquilla. Aveva sempre ceduto in quella stessa maniera al primo assalto della sua sensibilità. Le lacrime la soffocavano, la passione le raddoppiava i tormenti. Poi se ne faceva una ragione e recuperava il suo coraggio sereno, una forza di volontà dolce e indomabile. Ed ora, con gli occhi limpidi, il volto pallido, non aveva un brivido, tutta intenta al lavoro, risoluta a spezzarsi il cuore e non far altro che quel che voleva lei. Suonarono le dieci e il chiasso dell'inventario si fece sempre maggiore nel tumulto dei reparti. Fra i gridi lanciati, senza tregua, che si incrociavano dappertutto, la stessa notizia correva ora dovunque, con velocità incredibile. Ogni commesso sapeva già che Muret aveva scritto quella mattina a Denise per invitarla a cena. La colpa era di Pauline. Mentre tornava giù commossa ancora, nel reparto delle trine aveva incontrato Deloche e questi, senza badare che Lienard gli stava parlando, si era sfogato con lei. «Ormai quel che è stato è stato, caro Deloche. Ha avuto la lettera. La invita per stasera». Deloche era divenuto livido. Aveva capito subito, perché non mancava giorno che non discorresse con Pauline della loro amica comune, del capriccio di Muret, di quel famoso invito che prima o poi doveva chiudere il primo capitolo del romanzo. Del resto lei lo sgridava perché amava Denise, con la quale tanto non c'era nulla. E quando egli approvava la ragazza perché resisteva al padrone, lei si stringeva nelle spalle. «Il lei» e si affrettò a tornarsene nel suo reparto. «Ah!» mormorò Lienard che aveva sentito tutto. «Si tratta della signorina che ha la storta a un piede. Avevate ragione voi ieri sera di difenderla al caffè. Avevate proprio ragione!» E anche lui scappò via. Ma prima di essere tornato al suo banco, aveva già raccontato la cosa a quattro o cinque commessi. In meno di dieci minuti non ci fu più uno nel magazzino che non lo sapesse. Le ultime parole di Lienard si riferivano a una scena avvenuta la sera prima al caffè San Rocco. Delosce e lui erano diventati intimi e stavano sempre insieme. Quando Huten, nominato aiuto, si era preso un appartamentino di tre stanze, Delosce era andato a stare all'albergo di Smirne, nella sua stanza. I due commessi ogni mattina venivano insieme al paradiso e la sera si aspettavano per uscire insieme. Le loro camere, che erano accanto, davano sullo stesso cortile buio, quasi un pozzo che appestava col suo lezzo tutto l'albergo. Per quanto fossero differenti d'indole, vivevano d'accordo, l'uno mangiandosi, senza un pensiero al mondo il danaro che strappava al padre, l'altro senza mai un soldo, tormentato dal pensiero dell'economia, con questo in comune. Sapevano di far poco o niente come venditori e vegetavano al loro banco senza mai accrescere i guadagni. Usciti dal magazzino, passavano la serata al caffè San Rocco, che, sempre vuoto nella giornata, la sera verso le otto e mezzo si riempiva e traboccava di impiegati ai quali il portone di Plasgaillon dava il via. E allora cominciava un tramestio, un fragore da assordare, di pezzi del domino, di risate, di sedie, in mezzo al fumo denso delle pipe. La birra e il caffè dovevano essere versati a fiotti. Nel cantuccio a sinistra, Lienard chiedeva sempre cose che costavano molto. Deloche si contentava ad un bicchiere di birra che gli durava quattro ore. Aveva sentito lì Favier, alla tavola accanto, raccontare cose infami su Denise. Il modo, per esempio, col quale aveva raggirato il padrone, tirandosi su le sottane quando saliva le scale davanti a lui. Era stato lì per lì per dargli uno schiaffo e, sentendo che l'altro si guidava a dire che la ragazza scendeva tutte le notti in camera del padrone, fu ribondo per l'ira, lo aveva trattato da bugiardo e temerario. Zitto! Brutto porco! Non è vero nulla! Non è vero nulla! E, sussultando dall'emozione, non pensava a frenarsi più e, balbettando, sfogava l'amor suo. Io... lo so! La conosco, io! Non ha voluto bene che a uno, a Utene, e lui non si è nemmeno accorto! Non si può vantare di averle toccato la punta di un dito! Il racconto di questo diverbio, abbellito con tutte le frange possibili e immaginabili, faceva ridere già tutto il magazzino quando entrò in ballo anche la lettera di Mouret. Per l'appunto, il primo a sapere la cosa da Lineard fu un commesso delle sete. Nel reparto delle sete, l'inventario procedeva alla svelta. Favier e due impiegati, dritti su degli sgabelli, votavano gli scaffali, passando a mano a mano le stoffe a Utene, che, dritto anche lui su una tavola, dava un'occhiata ai cartellini e diceva il prezzo, buttandole poi per terra dove salivano. Salivano come una marea d'autunno. Degli altri scrivevano, aiutati da Albert Lhomme, tutto intontito per aver fatto nottata in una casaccia di Batignol. Dall'invetriata della corte cadeva un raggio di sole e si intravedeva l'azzurro infiammato del cielo. «Perché non tirate le tende?» esclamò Boutemont, tutto attento a sorvegliare. «Non si resiste con questo sole!» Favier, che si alzava sulla punta dei piedi per pigliare una pezza di stoffa, mormorò fra i denti. «Guarda se si deve star chiusi con una giornata come questa! Piovesse mai i giorni di ventario! E ci chiudono a chiave come i galeotti, quando non c'è uno in tutta Parigi che stia in casa!» e passò la stoffa a Utene. Sul cartellino segnavano ogni volta quanti metri ne avevano venduti e così il lavoro era molto più facile. Utene gridò «Sete di fantasia a quadratini, ventun metri, sei e cinquanta!» La seta andò per terra ad ingrossare il monte. Poi Utene continuò, rivolgendosi a Favier, una conversazione cominciata prima. «Dunque, vi voleva proprio picchiare!» «E come?» «Io ero lì che bevevo tranquillamente un picchiere di birra!» «Metteva proprio in conto di darmi del bugiardo!» «Stamattina, la ragazza ha avuto una lettera del padrone che l'invita a cena! Lo sanno già tutti!» «Ma come? Dunque ancora non saranno intesi!» Favier gli porse un'altra pezza. «Chi se lo poteva immaginare! Ci avremmo messo tutti la mano sul fuoco! Parebbe una cosa fatta e strafatta!» «Idem!» «Venticinque metri!» gridò Utene. Mentre la stoffa cadeva, aggiunse a voce più bassa «Da quel vecchio matto di Burra ne ha fatte di tutte!» Tutto il reparto non ne poteva più da ridere, senza che peraltro il lavoro ne fosse interrotto. Si passavano il nome della ragazza, le spalle si inarcavano, i nasi si arricciavano come per un odore ghiotto. Butemò medesimo, che in quei discorsi ci si crogiolava, non poté trattenersi dal buttar là uno scherzo di pessimo gusto gongolando dal piacere. Albert, scosso dalle risate, giurò di aver visto l'innocentina tra due soldati a un veglione. Scendeva in quel momento Mignot, coi venti franchi che si era fatti prestare, si era fermato a metterne dieci nella mano di Albert, dandogli un appuntamento per la serata. Una cenetta che aveva avuto paura di non poter più fare, e che ora si poteva arrischiare per quanto i soldi non fossero troppi. Ma il bel Mignot, quando seppe della lettera, fece un'osservazione di tal fatta che Butemò fu costretto a intervenire. «Basta, basta! Noi non c'entriamo nulla! Via, via, monsieur Houten!» Le penne ricominciarono a correre sui fogli, i pacchi a cadere regolarmente, e le stoffe salivano sempre e l'inventario continuava incessante. Favier, sommessamente, fece osservare che di roba ce n'era. La direzione sarebbe proprio stata contenta, perché quel bestione di Butemò era forse il più bravo per le compere che ci fosse a Parigi, ma a vendere non si era mai visto un torsolo come lui. Houten sorrideva, godendosela e approvando con benevole occhiate, perché, dopo aver introdotto proprio lui un tempo Butemò nel paradiso per mandar via Robinò, ora dava contro nascostamente a quest'ultimo, sempre con l'intento di rubargli il posto. Era la stessa guerra di prima, perfide calunnie sussurrate all'orecchio dei capi, ostentazioni di zelo, per mettersi in un assedio in piena regola fatto con affabile volponeria. E Favier, che Houten trattava ora amichevolmente, lo guardava di sotto in giù, magro e freddo, pieno di bile, come se aspettasse che il compagno si fosse ingoiato Butemò per ingoiare lui a sua volta. Sperava, infatti, di divenire aiuto se Houten diveniva capo. Dopo avrebbero fatto i conti tra loro due. Presi anche loro dalla febbre che infiammava tutti, non facevano che parlare degli aumenti probabili. Seguitando a far l'inventario, prevedevano che, a Butemò, non potevano toccare quell'anno meno di 30.000 franchi, a Houten 10.000. Favier diceva che, fra tutto, doveva averne 5.500. Anno per anno, gli affari del reparto crescevano e i commessi salivano di grado e di stipendio, come gli ufficiali in tempo di guerra. «Ma non finiscono mai queste sete benedette?» disse a un tratto Butemò, un po' scontento. «Che primavera è stata questa? Non è mai smesso di piovere e non è andata che la seta nera!» Il suo faccione ridente si faceva serio nel guardare quel monte farsi sempre più alto, mentre Houten ripeteva sonoramente, non senza una certa aria di trionfo, «Sete fantasia! Quadratini, 28 metri, 6 e 50!» Ce n'era un altro palchetto intero. Favier, che non ne poteva più, andava ad agio ad agio. Nel dare le ultime pezze a Houten riprese con voce bassissima, «A proposito, me ne stavo scordando, sapete che la vice dell'abbigliamento è stata innamorata morta di voi?» Il giovanotto parve cascar dalle nuvole. «Toh! E come lo sapete?» «Già, quel babbeo di Deloche ce l'ha detto e me ne ricordo io, tempo fa vi dava certe occhiate.» Da quando era aiuto, Houten aveva lasciato andare le cantanti dei caffè e dava ad intendere di avere a che fare con delle governanti. Lusingato nel suo amor proprio, credette di dover rispondere con aria di sprezzo. «A me piacciono con un po'... più di roba addosso. E poi non sono mica come il padrone che basta che abbiano la gonnelle.» Si interruppe e gridò, «Seta bianca! 35 metri! 8 e 75!» «Finalmente!» sussurrò Butemont tutto contento. Ma la campanella suonava per la seconda tavolata nella quale era Favie. Scese dallo sgabello, su cui salì subito un altro, e dovette scavalcare le stoffe che erano ormai altissime sul pavimento. In tutti i reparti c'era lo stesso inciampo. Scatole, scaffali, armadi si vuotavano a poco a poco, e le merci straripavano dappertutto, per terra e sui banchi e le tavole. Alla biancheria si sentiva il tonfo dei pacchi di cotone, alla merceria un leggero rumore di scatole, dai mobili un lontano rotolio. Tutte le voci, stridule grosse, salivano insieme e un brusio simile a quello dei boschi d'inverno, quando il vento soffia tra i rami, correva per l'immensa navata. Favie, alla fine, riuscì a districarsi da quegli ingombri e infilò la scala nel refettorio che, dopo gli ultimi ingrandimenti, era al quarto piano nelle nuove fabbriche. Tanto si affrettò che raggiunse Deloche e Lienard, saliti prima di lui, e allora aspettò Mignot che gli veniva dietro. «Ho, ho!» disse nell'andito di cucina davanti alla lavagna dove era scritto quel che avevano a colazione. «Oggi si vede che è giorno d'inventario, festa intera, pollo o spezzatino d'agnello e carciofi sott'olio. Vedrete che è successo quello spezzatino!» Mignot soghignando mormorava «Ci deve essere una malattia nel pollame!» Deloche e Lienard avevano preso intanto le loro porzioni e se ne erano andati. Allora Favie, chinandosi allo sportello, chiese a voce alta «Pollo!» Ma dovette aspettare un po' perché uno dei garzoni, nel far le parti, s'era tagliato. Rimase col viso allo sportello a guardare la cucina, una cucina da gigante, con un gran fornello in mezzo, sul quale, per un meccanismo di carrucole e funi, venivano a posarsi certe marmitte smisurate che quattro uomini non sarebbero bastati ad alzare. I cuochi, bianchi sul rosso acceso del fuoco, stavano attenti alle pentole del mangiare, dritti su delle scale di ferro e con in mano dei lunghi bastoni che avevano in fondo la schiumarola. Appese al muro si vedevano graticole sufficienti a far arrostire dei martiri, casseruole da metterci dentro un montone intero, uno scaldapiatti immenso, una vasca di marmo riempita continuamente da una cannella d'acqua. Più a sinistra c'erano degli acquai di pietra larghi come piscine e, a destra, una dispensa, dove si riconoscevano pezzi di carne cruda pendenti da uncini di ferro, una macchina per sbucciare le patate che, quando andava, pareva a rumore un mulino e due carrelli carichi di insalata che due garzoni spingevano a rinfrescare sotto una fontanella. «Pollo!» ripete Favier, che perdeva la pazienza, e, volgendosi, aggiunse più sommessamente «Uno si è tagliato! Fa schifo! Il sangue cola sulle pietanze!» Mignot volle vedere anche lui. I commessi dietro a loro si affollavano sempre con grandi risate e spintoni, e i due giovani lì allo sportello parlavano di quella cucina da falnastero, nel quale i più piccoli utensili, perfino gli spiedi e le ghiotte, erano giganteschi. Bisognava che preparassero duemila colazioni e duemila pranzi, e gli impiegati crescevano ogni settimana. Si ingurgitavano in un giorno sedici quintali di patate, centoventi libri di burro, seicento chilogrammi di carne, volta per volta dovevano dar fondo a tre botti, quasi settecento litri erano al banco, dove si distribuiva il vino. «Pollo!» disse Mignot dietro a lui, e tutte e due, col piatto in mano, entrarono nel refettorio dopo aver preso il vino. Alle loro spalle la domanda «pollo» si ripeteva senza tregua, regolarmente, e alla forchetta del cuoco infilzava i pezzetti con un piccolo rumore rapido e cadenzato. Il refettorio era un'immensa sala, dove le cinquecento posate di ciascuna delle tre serie stavano comodamente, messe in fila su lunghe tavole poste parallele attraverso la sala. Ai due capi c'erano due tavole simili riservate ai direttori e agli ispettori. Nel mezzo un banco, per la roba chiesta oltre l'ordinario. Grandi finestre a destra e a sinistra rischiaravano ad una luce bianca la galleria di cui il soffitto, per quanto alto 4 metri, pareva basso, schiacciato come era dalle altre dimensioni. I muri, dipinti a olio, d'un color giallo chiaro, non avevano altro ornamento che gli scaffali per i tovaglioli. Accanto a quel primo refettorio c'era quello dei garzoni e dei cocchieri, i quali non avevano orario e mangiavano quando il servizio permetteva a loro di mettersi a tavola. «Come? Anche a voi, Mignot, è toccata una coscia!» disse Favier quando si fu messo a sedere a una delle tavole di fronte al suo compagno. Altri commessi si sedettero vicino a loro. I piatti posti sul legno, senza tovaglia, mandavano un suono fesso e tutti badavano a dire l'intorno che le cosce erano troppe. «Ecco degli altri polli che non hanno che le zampe!» osservò Mignot. Quelli che poi avevano le carcasse si lamentavano anche loro. Ma il cibo era molto migliorato dopo gli ultimi lavori. Mure aveva abolito l'appalto, dirigeva da sé la cucina e anche quello era ormai un servizio come tutti gli altri. C'era il reparto della cucina col capo, gli aiuti e un ispettore. Spendeva di più, ma gli lavoravano anche di più, essendo meglio nutriti. Calcolo d'umanità pratica che aveva dato da pensare molto a Bordoncle. «Meno male che il mio non è duro!» riprese in fila e si mettevano a sedere in fretta e furia. Un appetito feroce, raddoppiato dal lavoro di tutta la mattina, animava le tavole da un capo all'altro della sala. E sempre cresceva il rumore delle forchette, il gorgoglio delle bottiglie, il colpo dei bicchieri posati con troppa forza, il biascichio di 500 forti mascelle che macinavano energicamente. E le parole, non ancora frequenti, si soffocavano nelle bocche piene. Deloche intanto tra Bouget e Lienard stava quasi di fronte a Favier, due o tre posti più in giù. Si erano già lanciati un'occhiata piena di rancore. Quelli accanto, che sapevano la lite del giorno prima, sussurravano tra loro. Poi si erano messi a scherzare sulla sfortuna di Deloche, che aveva sempre fame e a cui toccava sempre un maledetto destino, il peggior pezzo che ci fosse. Quella mattina gli avevano pioppato un collo di pollo e un po' di carcassa. Lui, zitto, li lasciava divertire a sue spese e ingoiava grossi bocconi di pane, spellando il collo con l'arte d'uno che ha rispetto per tutto ciò che si mangia. Perché non reclamate? Perché non vi fate cambiare la porzione. Ma lui si strinse nelle spalle. E a che gli sarebbe servito? Avrebbe fatto peggio. Quando non le pigliava in santa pace, le cose le andavano anche più di traverso. Sapete che i gomitolai hanno messo su una società? Si mise a un tratto a raccontare Mignot. Già, la società del gomitolo. Hanno preso una stanza da un vinaio in russa non ore e ci vanno tutti i sabati. Parlava dei commessi della merceria. Dettero tutti in una risata. Tra un boccone e l'altro facevano a chi le diceva più grosse, con la bocca piena, e soltanto qualche ostinato lettore di giornali qua e là stava col naso sul foglio senza badare ad altro. Erano tutti d'accordo su questo, che ogni anno gli impiegati nei magazzini si facevano più eleganti. Quasi una buona metà parlava ora l'inglese o il tedesco. Fare chiasso per i balli pubblici o fischiare nei caffè le cantanti brutte era passato di moda. Erano una ventina d'accordo. Mettevano su un circolo. E hanno un pianoforte come quelli delle tele? Chiese Lienard. Se la società del gomitolo ha un pianoforte, lo credo io, rispose Mignot. Suonano e cantano. Ce n'è perfino uno, quel cosettino di Bavou, che legge ogni tanto dei versi. Le risate raddoppiarono, canzonando Bavou. Ma sotto quelle risate c'era una grande stima. Poi cominciarono a chiacchierare di una commedia del vaudeville, dove un commesso faceva una gran brutta figura. I più se ne arrabbiavano, altri invece si domandavano inquieti a che ora avrebbero potuto venir via la sera perché erano aspettati a passar la serata in altre case. E in ogni parte dell'immensa sala, tra l'acciottolio sempre crescente dei piatti, si udivano conversazioni di quella sorta. Per disperdere un po' il puzzo di mangiato che saliva dai 500 piatti, erano state aperte le finestre e gli stoini abbassati ardevano nell'afa di agosto. Soffi infuocati venivano su dalla via. Riflessi gialli doravano il soffitto o tingevano ad una luce rossastra i giovani, che non ne potevano più dal caldo e dal sudore. «Guarda un po' se di domenica, con un tempo come questo, si debba star chiusi», ripetè Favier. La sua riflessione ricondusse tutti a parlare dell'inventario. Era stata un'annata fortunatissima, e ricominciarono subito a dire degli stipendi, degli aumenti, argomento inesauribile, più di ogni altro importante che li metteva tutti sottosopra. I giorni in cui c'era il pollo succedeva sempre così. Erano sovraeccitati, e gli urli erano tali da non potersi sopportare. Quando i garzoni distribuirono i carciofi sott'olio, non c'era più verso di capire quel che uno diceva. L'ispettore aveva avuto l'ordine ad essere indulgente. «A proposito», esclamò Favier, «lo sapete quel che è accaduto?» Ma fu interrotto da Mignot che domandava «Chi non vuole il carciofo si fa a scambio con la mia frutta?» Nessuno rispose. I carciofi piacevano a tutti. Quella colazione doveva rimanere memorabile. Per frutta avevano avuto niente meno delle pesche. «L'ha invitata a cena, caro mio», diceva Favier a quello accanto, terminando il suo racconto. «Ma come? Non lo sapevate!» Lo sapevano tutti. Non avevano fatto che parlarne tutta la mattina, e gli scherzi, sempre gli stessi, corsero di nuovo di bocca in bocca. Deloche impallidì. Si accorse che lo guardavano e fissò lo sguardo su Favier, che ripeteva con insistenza «Se non l'ha ancora avuta, l'avrà e non sarà mica il primo». Anche lui guardava Deloche e con aria di sfida aggiunse «A chi piacciono gli ossi, con cinque franchi se ne può allevare la voglia». Ma abbassò di scatto la testa. Deloche, cedendo a un moto irresistibile, gli aveva gettato sul viso il suo ultimo bicchiere di vino, gridando «A te, suddicione, bugiardo! Te l'avrei dovuto buttare ieri!». Fu uno scandalo. Alcune gocce erano schizzate su quelli accanto a Favier, il quale non si era bagnato che i capelli. Il vino, lanciato con troppa forza, era caduto dall'altra parte della tavola. Ma tutti si riscaldavano. Che andava a letto con lei per difenderla così? Che razza di bestione! Ci volevano due schiaffi per insegnargli a vivere. Per fortuna si avvicinava un ispettore e le voci si moderarono. Non c'era bisogno di mettere la direzione al corrente dei loro affari. Favier si contentò di sussurrare fra i denti «Se macchiappava avreste visto che scena!». E la cosa andò a finire in scherzo. Quando Deloche, tremante ancora, volle bere per nascondere il suo turbamento, afferrò macchinalmente il suo bicchiere vuoto. Ci furono delle risate. Posò goffamente il bicchiere e si mise a succhiare da capo le foglie di carciofo che aveva già rosicchiate. «Passate la bottiglia Deloche! Ha sete?» disse tranquillamente Mignot. Le risa raddoppiarono. I commessi presero dei piatti puliti dalle pile che erano sulla tavola e i garzoni offrirono le pesche portandole attorno dentro dei canestri. Quando Mignot aggiunse «Ognuno ha i suoi gusti!» A Deloche le pesche piacciono col vino! Poco mantò che non si schiantassero tutti dalle risate. Deloche restava immobile, con la testa bassa quasi sordo, pareva non sentisse che lo canzonavano, lamentando in cuor suo ad essersi lasciato andare in quel modo. Avevano ragione loro. Perché la difendeva? Chissà che cosa avrebbero creduto di lei e si sarebbe dato dei pugni da sé per averla così compromessa mentre la voleva provare innocente. A lui andavano tutti in quel modo. Sarebbe stato meglio che fosse morto lì su due piedi se non poteva nemmeno cedere al suo cuore senza fare una sciocchezza. Gli salivano le lacrime agli occhi. Non era anche colpa sua se tutti sapevano della lettera di Moret. Li sentiva ciarlare e sghignazzare su quell'invito che solo Lienard aveva saputo e se ne accusava pensando che non avrebbe dovuto lasciare Pauline parlare davanti a lui. Perché avete raccontato tutto? Mormorò alla fine con voce che mostrava il suo dispiacere. Avete fatto male, malissimo! Io? rispose Lienard. Ma se io non l'ho detto che a due o tre facendomi giurare che avrebbero osservato il segreto, chi lo sa come le cose facciano a spargersi subito così? Quando Delosce si decise a bere un bicchiere d'acqua, ci fu un'altra risata. Gli impiegati stavano in panciolla aspettando la campanella e, nella confidenza che, dalla fine d'un pasto, si chiamavano e rispondevano da una parte all'altra. Al gran banco di mezzo erano stati chiesti pochissimi supplementi, tanto più che quel giorno l'amministrazione pensava lei al caffè. Le tazze fumavano, le fronti sudate luccicavano sotto il leggero vapore che ondeggiava come il fumo azzurro delle sigarette. Alle finestre gli stoini non si muovevano affatto, ne tirarono uno su e una striscia di sole attraversò la sala e accese il soffitto. Era tale il baccano che la campanella da principio non fu sentita che da quelli vicino alla porta. Si alzarono e i corridoi furono pieni di gente che tornava al lavoro. Per sfuggire agli scherzi che seguitavano a pungerlo, Deloche era rimasto indietro, perfino Bouget uscì prima di lui, e Bouget di solito era l'ultimo, per poter tornare indietro a vedere Pauline, mentre andava al refettorio delle donne. Erano rimasti d'accordo in quel modo, non avendone altro per dirsi una parola in tutta la giornata, ma a quella volta, proprio mentre si davano un bel bacio in un cantuccio dell'andito, capitò all'improvviso Denise che andava anche lei zoppicando ad agio d'agio a colazione. «Oh, non dite nulla a nessuno, per carità», disse Pauline fatta di fuoco. Bouget, grosso e alto com'era, tremava come un bambino e aggiunse «Perché ci manderebbero via da un momento all'altro». «Lo sanno che fra poco saremo marito e moglie, ma quelle bestiacce non ne vogliono sapere nemmeno di un bacio». Denise, dispiaciuta di averli visti, finse di non capire, e Bouget se la stava dando a gambe quando Deloche comparve anche lui. Si volle scusare, e balbettò parole che Denise non riuscì lì per lì a intendere. Poi, udendolo rimproverare a Pauline di aver chiacchierato davanti a Lienard, e vedendo Pauline impicciata nel rispondere, finalmente capì quello che dalla mattina le bisbigliavano dietro le spalle. Era per via della lettera. Vedendosi come spogliata in presenza di tutti quegli uomini, fu ripresa dai brividi che la lettera le aveva già dati. «Io non sapevo», badava a ripetere Pauline, «e poi che c'è di male? Lasciamoli parlare, e che crepino quanti sono!» «Cara mia», disse alla fine Denise con la sua aria da donna Savia, «perché me la dovrei pigliare con voi? Non avete detto che la verità? Ho ricevuto una lettera, sta a me a rispondere». Deloche se ne andò ferito nel cuore, credendo di aver capito che la giovanetta la sera voleva andare all'appuntamento. Quando ebbero finito di mangiare in una sala più piccola accanto all'altra, e dove le donne erano trattate un po' meglio, Pauline dovette aiutare Denise a scendere, perché il piede le si stancava troppo. Nel magazzino l'inventario andava anche più alacramente. Tutti si accorgevano del poco lavoro fatto nella mattina e tiravano via per finire in serata. Le voci si alzavano, non si vedevano che braccia gesticolanti nel vuotare gli scaffali e nel buttare giù le merci. Non si poteva più camminare, perché pacchi e involti salivano da terra fin quasi ai banchi. In fondo i reparti, a vedere quelle teste che si dimenavano, quei pugni tesi, quelle membre in sussulto, c'era quasi da credere a un subbuglio. Era invece l'ultima scossa della macchina che stava per scoppiare. Davanti ai cristalli, intorno al magazzino chiuso, continuavano a sfilare rari passanti fiaccati dalla noia soffocante d'una domenica estiva. Sul marciapiede di Rune of Saint-Agustin, tre ragazzacce spettinate stavano sfacciatamente col viso sui vetri, cercando di capire che mai significasse quel tramestio. Quando Denise fu ritornata all'abbigliamento, Madame Orelie lasciò Margherita a contare i vestiti. Per il riscontro ci volevano calma e silenzio e andò nelle stanze dei campioni portandosi dietro Denise. «Venite con me! Faremo il riscontro e, poi, la somma!» Ma aveva lasciato la porta aperta per tener d'occhio le ragazze e il chiasso era tale che in fondo alla stanza non c'era verso di sentir quello che uno diceva dalla parte opposta. Era una stanza larghissima, ammobiliata soltanto con delle seggiole e tre lunghe tavole. In un canto i grandi coltelli meccanici per tagliare i campioni. Sotto quei coltelli passavano pezze intere di stoffa, ne facevano migliaia di piccoli rettangoli che poi si spedivano dappertutto. Ce ne voleva circa un ventimila franchi ogni anno. Dalla mattina alla sera i coltelli tagliavano, con rumore di falci, seta, lana, tela. Poi bisognava cucire o incollare i campioni. Tra le due finestre c'era anche una piccola tipografia per i cartellini. «Zitte un po'! Zitte!» doveva ogni tanto gridare Madame Orelie. Non riusciva a sentire Denise che leggeva la lista. Quando i primi fogli furono finiti di riscontrare, la lasciò a una delle tavole ingolfata nelle somme, e tornò quasi subito con Madame de Fontenay, della quale non avevano più bisogno ai corredi. Doveva anche lei mettersi accanto a Denise a far somme per sbrigarsi presto. Ma la Marchesa, come la chiamava malignamente Claire, aveva, passando, messo sottosopra il reparto. Ridevano e canzonavano Joseph con parole feroci che giungevano fino nell'altra stanza. «State pure qui accanto a me! Non mi date affatto fastidio!» disse Denise, presa da grande compassione. «Vinite qui! Un calamaio basta a tutte e due!» La de Fontenay, nella stupidità in cui il decadimento proprio della famiglia la sprofondava, non trovò neppure una parola di gratitudine. Doveva avere il vizio del padre, quello di bere, perché le sue carni magre avevano un colore plumbeo e soltanto le mani, bianche e delicate, attestavano ancora la nobiltà della stirpe. Ma le risate cessarono da un momento all'altro e il lavoro riprese ad andare regolarmente. Mure faceva di nuovo il giro dei reparti. Si fermò e guardò dove era Denise, meravigliato di non vederla lì. Chiamò con un cenno Madame Aurelì e si misa a parlare con lei da parte, sommessamente. Si capiva che le domandava di Denise. L'altra accennò con un'occhiata alla stanza dei campioni, poi parvegli raccontasse qualcosa. Certo gli diceva che la ragazza aveva pianto quella mattina. «Benissimo!» disse a voce alta Morea avvicinandosi. «Fatemi vedere un po' le liste!» «Sono di là!» rispose la direttrice. «Siamo dovute scappare da questa confusione!» Le andò dietro nella stanza accanto. Claire mangiò la foglia e mormorò che avrebbero fatto meglio a mandare addirittura a prendere un letto. Ma Marguerite le gettò i vestiti con più sveltezza per tenerlo occupata a chiuderle la bocca. La vice era sì o no una buona compagna. Negli affari suoi non stava loro a mettere bocca. Il reparto si faceva a questo modo complice anch'esso. Le ragazze si muovevano sempre più. L'homme e Joseph invece si piegavano sempre più sui fogli come se fossero sordi e Jouvet, che passava, avendo capito il tiro di Madame Aurelie, si mise a passeggiare davanti alla porta dei campioni col passo regolare di una sentinella che fa quel che vuole il superiore. «Date le liste a Monsieur Muret», disse la direttrice nell'entrare. Denise le porse e restò a testa alta. Aveva leggermente sussultato, ma si era frenata e pallida, stava col volto composto con tranquillità. Per un po' Muret parve stesse tutto attento alle cifre, senza darle nemmeno uno sguardo. Allora Madame Aurelie si avvicinò a Mademoiselle de Fontenay, che non s'era nemmeno voltata. Parve scontenta delle somme che aveva fatto e le disse a mezza voce «Andate ad aiutare di là. Non ci siete abituata a fare i conti». Ella si alzò e tornò nel reparto dove fu accolta con un bisbiglio. Joseph, sotto gli occhi canzonatori delle ragazze, scriveva tutto storto. Claire, contenta di quell'aiuto che le veniva all'improvviso, cominciò non di meno a tormentarla subito, perché odiava tutte le donne quante ce n'erano nel magazzino. «Come fa lei, una marchesa, a innamorarsi d'un facchino. Non di meno le invidiava un po' quell'amore». «Benissimo, benissimo!» ripeteva Moree fingendo sempre di leggere, ma Madame Aurelie non sapeva come andarsene anche lei, decentemente. Pestava i piedi e andava a guardare e riguardare i coltelli meccanici. Fu ribonda che il marito non trovasse un pretesto qualsiasi per farla venir via, ma il povero uomo negli affari seri non ci aveva mai capito nulla e sarebbe morto di sete accanto a un lago. Margherì alla fine capì e fece domandare qualcosa alla direttrice. «Eccomi subito!» rispose e, messa così al sicuro la dignità, avendo un pretesto davanti a tutta quella gente che non le levava gli occhi di dosso, lasciò soli Denise Moree, che era riuscita a mettere l'uno accanto all'altra, e uscì con la sua aria imperiale e con il volto così nobilmente altero che le ragazze non osarono nemmeno sorridere. Moree aveva posato lentamente le liste sulla tavola e guardava la giovinetta che era rimasta a sedere con la penna in mano, senza volgere lo sguardo da un'altra parte, soltanto se era fatta anche più pallida. «Verrete stasera?» le domandò sommessamente. «No», rispose lei, «non posso. I miei fratelli sono a cena dallo zio e ho promesso di star con loro. Ma è il piede. Fate fatica a camminare?» «Oh, fino a lì c'è tanto poco. E poi mi sento meglio.» Toccò a lui impallidire davanti a quel pacato rifiuto. Gli tremavano le labbra dal sussulto nervoso, ma si contenne e ripigliò con l'affabilità di un buon padrone che ha cura delle sue ragazze. «E se ve lo chiedessi per piacere?» «Lo sapete che conto su di voi.» Denise non perdette la sua rispettosa compostezza. «Non so come ringraziarvi della vostra bontà per me. E vi ringrazio dell'invito, ma ve l'ho già detto. Non posso. Stasera mi aspettano i miei fratelli.» Mure si ostinava a non capire. La porta era rimasta aperta e lei sentiva che tutto il magazzino la sospingeva nelle braccia del padrone. Pauline le aveva dato confidenzialmente della sciocca. Le altre si sarebbero fatte beffe di lei se seguitava a rifiutare. Madame Aurelì, che se n'era andata, Marguerite, di cui la voce le giungeva sempre più forte, l'homme che, immobile e discreto, le volgeva la schiena. Tutti volevano che lei cadesse. E il rumore lontano dell'inventario, quei milioni di merci smossi da tante braccia e di cui il prezzo volavano i gridi, era quasi un vento caldo che soffiava la passione fino a lei. Ci fu un momento di calma, ma di tratto in tratto il rumore copriva le parole di Mure, che si perdevano così nella clamorosa enumerazione di un tesoro regale conquistato nelle battaglie. «Sta bene. Ma allora, quando verrete?» chiese di nuovo. «Domani?» Bastò questa domanda a turbare Denise, che perse per un momento la sua compostezza e balbettò. «Non so, non posso!» L'altro sorrise e cercò di prenderle una mano, che lei tirò indietro. «E di che mai avete paura?» Ma già Denise rialzava la testa e lo guardava in viso coi suoi begli occhi limpidi, sorridendo con la sua aria dolce e coraggiosa riprese. «Non ho paura di nulla. Ma ognuno fa soltanto quel che vuol fare, non è vero? Ed io? Io non voglio!» Uno scricchiolio in quel momento le fece voltare la testa. La porta si chiudeva. Jouvet aveva il compito di badare che le porte non restassero aperte. Non faceva che il suo dovere. Infatti si rimise a fare gravemente la sentinella e nessuno parve s'accorgesse di quella porta chiusa con tanta naturalezza. Soltanto Claire mormorò in un orecchio della De Fontenaille una parola assai frizzante, ma la signora non si scosse nemmeno. Denise intanto si era alzata e Moret, con voce bassa e tremante, le sussurrava «Sentite! Io vi voglio bene, lo sapete da un pezzo. Perché vi divertite crudelmente a fingere con me di non esservene accorta? E non abbiate paura di nulla! 20 volte mi è saltato in testa di farvi venire nel mio studio. Saremmo stati soli soli e bastava che io mettessi alla porta il segretario, ma non ho voluto e vedete che vi parlo ora, qui, dove tutti possono entrare. Vi amo, Denise». Lei, dritta, pallidissima, lo ascoltava, guardandolo sempre in viso. «Perché dite di no? Non siete ricca? I vostri fratelli sono a carico vostro, un bel carico!» «Quanto mi chiederete? Quanto vorrete? Ma lei l'interruppe. Grazie. Guadagno più di quello che mi occorre. Ma io vi offro la libertà, una vita di piaceri, di lusso. Vi metterò su un appartamento, vi darò un assegno fisso. No, grazie. Mi annoierei a starmene senza far nulla. Avevo a malapena dieci anni e già mi guadagnavo da vivere». Mouret fece un gesto tra lo sdegnato e lo stupefatto. Era la prima che gli resisteva. Per pigliare le altre non aveva dovuto far altro che chinarsi. Tutte aspettavano i suoi capricci come schiave sottomesse. E questa ora gli diceva di no, senza neppure spiegargli il perché, né il per come. Il desiderio di lui compresso da tanto tempo, agguzzato dalla resistenza, divampava più forte. Non aveva forse offerto abbastanza? E raddoppiò l'offerta, incalzando maggiormente la ragazza. «No, no, grazie», rispondeva a lei ogni volta senza mai lasciarsi vincere. Allora a lui sfuggì questo grido dal cuore. «Non vedete che soffro? Già, è una stupidaggine, ma soffro, come un bambino!». Gli salivano le lacrime agli occhi. Stettero zitti un altro istante. Il rumore dell'inventario giungeva a loro smorzato per la porta chiusa. Pareva un clamore trionfale che si allontanasse. In quella sconfitta del padrone, l'accompagnamento si faceva più sommesso. «Ma se volessi! Se proprio volessi!» disse con voce ardente afferrandole le mani. Denise non ebbe la forza di ritirarla a sé. Gli occhi le si velavano. Tutta la sua forza se n'andava. Il caldo che si trasfondeva in lei dalle mani tiepide di quell'uomo la faceva quasi svenire per una debolezza piena di voluttà. «Dio mio, che bene gli voleva! E come sarebbe stato dolce stringergli si al collo e abbandonargli si sul petto!» «E Dio voglio! Io voglio!» ripeteva lui fuori di sé. «Vi aspetto stasera, se no…» La bramosia lo fece villano. Lei cacciò un grido leggero. Il dolore che sentiva al polso le rese il coraggio e con una scossa si liberò. Poi, dritta, fatta più grande dalla sua stessa debolezza, «No! Lasciatemi andare! Io non sono mica Claire che si piglia oggi e si lascia domani! E poi voi amate un'altra! Sì, quella signora che viene qui! Restate con lei! Io non faccio a mezzo con nessuna!» La meraviglia che Mouret provò per quelle parole parvelo inchiodasse sul pavimento. Che diceva mai e che mai voleva? Le ragazze che aveva raccattate per i reparti non s'erano mai date pensiero ad essere amate. Avrebbe dovuto mettersi a ridere, ma quella forte emozione lo scombussolava invece sempre di più. «Via!» disse lei. «Riaprite la porta. Non sta bene che stiamo così chiusi insieme!» Obbedì e, con le tempie che gli battevano, non sapendo come nascondere la sua angoscia, richiamò Madame Orelie e cominciò ad andare su tutte le furie per via dei mantelli invenduti. Bisognava darli via tutti, a qualunque prezzo. Era la regola del magazzino, anno per anno, anche col 60% di perdita. Doveva essere venduto tutto, piuttosto che conservare un modello fuori moda o una stoffa non più fresca. In quel momento, Bourdoncle, che cercava di Mouret, stava aspettandolo, fermato davanti alla porta chiusa da Jouvet, che gli aveva sussurrato gravemente due paroline in un orecchio. Gli scappava la pazienza, ma non aveva il coraggio di guastare il colloquio del padrone. Era possibile che un giorno come quello lì perdesse il tempo con una creatura a quel modo? E, quando finalmente uscì fuori, si mise a parlargli delle sete fantasia che erano rimaste quasi tutte nel magazzino. Finalmente Mouret ebbe modo di sfogarsi. Ma dove aveva mai la testa quel benedetto Boutemont? Se ne andò gridando di non poter tollerare che uno dei suoi fosse bestia a tal punto da comprare più roba di quanto fosse necessario alla vendita. «Ma che diavolo ha in corpo?» mormorò Madame Orelie, sbalordita dai rimproveri. Le ragazze si guardavano meravigliate. Alle sei l'inventario era bello e finito. Il sole splendeva ancora, un biondo sole d'estate che mandava riflessi d'oro attraverso le invetriate. Nell'afa delle vie già le famiglie stanche tornavano dalla periferia cariche di mazzi e trascinandosi dietro i bambini. Uno alla volta i reparti si erano calmati. Non si sentiva altro. In fondo alle gallerie, che i gridi di qualche commesso che votava l'ultimo palchetto. Poi anche quelle voci tacquero. E di tanto frastuono non restò che un immenso fremito sopra la rovina smisurata delle merci. Scaffali, armadi, scatole, cassette, tutto era vuoto. Non c'era più un metro di stoffa o un gingillo da nulla che fosse al suo posto. Del vasto magazzino non si vedeva più che la mobilia, come il giorno in cui lo avevano messo su. Quella nudità era la controprova dell'inventario e per terra si ammonticchiavano 16 milioni di merci, marea che aveva a poco a poco sommerso tavole e banchi. I commessi, con la roba fin quasi alle spalle, cominciavano a riporre tutto in ordine. Fino alle 10 non c'era da sperare d'aver finito. Nel tornare dal refettorio, era il primo turno, Madame Aurelì disse quanto era stato l'incasso dell'anno. I reparti avevano fatto la somma totale in quel momento, non meno di 80 milioni, 10 di più dell'anno prima. Nelle sete fantasie soltanto c'era stato un po' di arenamento. «Se Mouret non è contento, non so proprio che cosa fargli», aggiunse la direttrice. «Eccolo là, in cima alla scala, e pare sempre arrabbiato». Le ragazze si affacciarono. Era là, dritto, solo, col viso imbronciato, sopra i milioni che gli si ammucchiavano i piedi. «Signora», venne in quel momento a dirle Denise, «vi pregherei di permettermi di andarmene. Non sono più buona a nulla con questa gamba, e siccome devo andare a cena dallo zio con i miei fratelli». Fu uno stupore di tutti. «Come? Aveva dunque rifiutato». Madame Aurelì esitò, e parve stesse quasi per negarle, con la voce secca e scontenta al permesso. Claire alzò le spalle come per dire «Io non la bevo». «Ma che rifiutare?». Era lui che non ne voleva sapere più nulla. Quando Polin lo riseppe, stava discorrendo con Deloche. La contentezza da cui fu preso il giovane la fece stizzire. «Bel lavoro!». Era contento quello sciocco che la sua amica desse un calcio così alla fortuna, e Bordoncle, che non osava andare a togliere Moret dalla sua dispettosa solitudine, passeggiava tra le chiacchiere, malcontento anche lui e pieno di confusi timori. Denise intanto tornò giù, e nel giungere, appoggiandosi alla ringhiera ad agio ad agio in fondo alla scalinata di sinistra, si trovò vicino a un gruppo di impiegati che ridevano, sentì anzi il suo nome, e capì che parlavano ancora della sua storia. Non si erano accorti di lei. «Sì, ora mi volete dare ad intendere che è una monaca!» «Ne ha fatte di tutte un po'. Figuratevi, io conosco uno che lei, per andarci a dormire, avrebbe fatto carte false». E guardava Uten, che per non perdere la sua dignità di aiuto, stava quattro passi più in là, senza prendere parte agli scherzi. Ma fu tanto lusingato dalle occhiate di invidia che gli altri li gettavano, che si degnò di sussurrare «Ma ha dato molta noia quella lì». Denise, ferita nel cuore, si aggrappò ai ferri, si accorsero di lei e si dispersero seguitando a ridere. Aveva ragione lui, ed ella si accusava ora della sua ingenuità ad un tempo quando pensava davvero a Uten. Ma com'era vigliacca e quanto lo disprezzava ora, un gran turbamento la prese. Non era strano che poco prima avesse avuto tanta forza da resistere all'uomo che adorava, quanto una volta si era sentita tanto debole davanti a quello sciagurato del cui affetto aveva soltanto fantasticato.